Un derby vinto all'ultimo minuto, quanto vale? Sto ancora gongolando, se si può parlare di gongolio, adesso sta arrivando anche il mio assistente, anche lui fa l'allenatore, io sono una persona molto sportiva e non ho molto da dire a Luis Enrique tranne che... Mamma mia, 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 che piccina che tu sia, tu mi sembri un'avaria. No, 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 ho sentito una pernacchia, ho sentito un pernacchia, ho sentito un pernacchia, e tu perché rive? Ho sentito un pernacchia? No, ma non era un pernacchia, era un'interferenza. No, no, interferenza non si dice perché abbiamo perso un derby all'ultimo secondo e già che merode il culone. E adesso anche il pernacchia mi sembra troppo. Come si chiama questo gioco adesso? Non ho chiamato tutti in Italia, ma... Si chiama Fumocen. Perché Fumocen? Perché tu prendi, scappi, lanci lungo, pedala e quando arriva per terra c'è Osvaldo che fa esplodere.